Musica Bentrovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 14 gennaio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare l'Italia e il Mediterraneo in genere interessate da un'intensa perturbazione di origine artica. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. I cieli infatti risulteranno sereni su gran parte della regione. La ventilazione media proverrà dai quadranti settentrionali e risulterà piuttosto intensa e le temperature risulteranno in generale diminuzione. Per quanto riguarda il pomeriggio le condizioni meteorologiche non varieranno di molto rispetto alla mattinata appena trascorsa. Il sole continuerà a splendere su gran parte della regione, tuttavia dal tardo pomeriggio assisteremo ad un aumento di nuvolosità alta e stratificata soprattutto sui settori occidentali della nostra regione. I mari inoltre risulteranno generalmente mossi o molto mossi. Nel corso della sera le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutta la regione, tuttavia assisteremo ad un aumento di nuvolosità soprattutto sui settori occidentali. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.